Venerdì 15 luglio, un nuovo momento dedicato alla formazione e all'approfondimento ha richiamato grande interesse presso la sede Alf da Freddy Cordignano. Una giornata che ha visto succedersi numerosi relatori che hanno portato ai tanti intervenuti molti contenuti e spunti nel ricco programma del workshop dal titolo La fabbrica delle idee. Sono state proprio le idee l'oggetto dell'analisi, la loro genesi e le modalità con cui si trasferiscono ai propri partner in un ambiente produttivo competitivo, la loro natura complessa ed il valore aggiunto che rappresentano nel contesto di un mercato in continua e vorticosa evoluzione. Ne è scaturito un seminario pregno di conclusioni e ispirazioni per quanti sentono che sono proprio le idee a fare la differenza nell'odierna globalità e per traslato la capacità di coltivarle, analizzarne il valore e comprenderne le potenzialità. Luca Barbieri ha condotto con precisione il ricco programma che si è dipanato con grande ritmo e puntualità. Roberto Trevisan di Alf1 ha inaugurato i lavori con l'intervento dal titolo L'erba del vicino, seguito a stretto giro da Mauro De Bona di Novalia SRL e dalla sua analisi sul valore delle buone idee. Si sono poi avvicendati Luca Comello di Queen SRL che ha dipanato con grande accuratezza il tema della complessità agile e Luciano Comacchio di Mela Media Lab che ha portato all'attenzione del pubblico il caso studio degli showroom immateriali. Fabio Candussio di Novalia SRL ha proseguito con la disamina sul potere delle supply chain e ha allargato la sua analisi anche alle metodologie più avanzate per la scelta delle più corrette opzioni operative applicando al workflow di ogni azienda e realtà economica la teoria dei giochi. Indagine, analisi ma anche test pratici dai risultati sorprendenti hanno intrattenuto ed arricchito il bagaglio culturale e professionale di un pubblico numeroso e particolarmente coinvolto. La conclusione dei lavori è stata affidata all'intervento di Maria Cristina Piovesana che ha confermato come sempre la propria convinzione che il lavoro di informazione ed autoformazione intrapreso dal gruppo è uno dei principali ingredienti del successo del marchio e di tutti i propri fornitori. Half Group ha firmato un'altra giornata dal grande valore didattico e formativo interpretando al meglio quel paradigma di ricerca e di evoluzione che contraddistingue i grandi protagonisti del mercato di oggi.